Dalla Facoltà di Scienze Politiche per il lancio della nuova rivista, il trimestrale Link, cultura e formazione politica. A seguire le interviste dei partecipanti. Nelle edicole di Napoli e Avellino sbarca Link, un osservatorio di cronaca politica in un complicatissimo momento istituzionale. Il momento istituzionale complicato non ci ha affermato certamente per la pubblicazione di questa rivista che è a metà tra un libro e di fatto una pubblicazione scientifica. Chi la comprerà osserverà il fatto che pubblicità praticamente non ce n'è, quindi non è una rivista che si fonda sull'advertising ma sulla qualità dei contenuti e sulla qualità del comitato scientifico che è stato individuato. E in un momento anche di crisi dell'editoria, come avete sottolineato, è una sfida forse quella di lanciare questo trimestrale di informazione politica? Come ho detto nel mio intervento, l'obiettivo principale era quello di tirare fuori un qualcosa di grande qualità, al di là quindi delle economicità e delle convenienze dell'editore. Quindi è un investimento in questo momento sicuramente che non ha un ritorno, il ritorno è soltanto culturale, è un investimento quindi che va guardato nel lungo periodo e solo in questo modo potremo raccogliere i benefici, i frutti. Link, perché la scelta di questo nome? L'Inc è un duplice termine per noi importante, per metterci in rete, però per metterci anche in un collegamento relazionale. Noi abbiamo pensato che la notizia già la dà la radio, la fa vedere la televisione, l'approfondisce il quotidiano. La rete è spesso, come sappiamo, inattendibile per oggettività, perché non ci dà la fonte, perché ci sono manomissioni. Abbiamo voluto mettere in campo uno strumento che vuole essere una scuola di comunità. Un domani per tanti giovani, per tante persone, anche adulte, che vogliono sentirsi cittadinanza attiva in politica, perché la politica è una delle forme più alte, più nobili per costruire il bene comune, per togliere i poveri dalle povertà, per dare una risposta in termini sociali, economici. Noi vogliamo formare una nuova classe dirigente, ma non dirigente perché va a dirigere, ma perché ci sono pure bravi studenti, bravi medici, bravi operai, bravi cittadini, insomma, link per mettere in rete e in relazione le persone. Avvocato Di Costanzo, allora, cambiare la politica partendo dal senso di corresponsabilità e dalla rimozione di quelle che lei ha definito, diciamo, un micro illegalità. Sì, dunque la parola chiave secondo me è proprio questa corresponsabilità, perché in genere si parla di responsabilità, i cittadini parlano di responsabilità delle istituzioni, le istituzioni parlano di responsabilità dei cittadini, probabilmente le cose andrebbero meglio se parlassimo appunto di corresponsabilità. In una città, parlo di Napoli, ma tutto sommato il tema dell'illegalità diffusa è un tema italiano, ma insomma in una città come Napoli nella quale c'è una miria, ne parlo, ne ho parlato spesso, c'è una miria di piccoli abusi che messi tutti quanti assieme creano una situazione di illegalità diffusa. La questione a me sta molto a cuore, non tanto per una preoccupazione di tipo giuridico, legalità, non legalità, tant'è vero che io preferisco parlare di giustizia, perché legalità significa sostanzialmente il rispetto delle regole, ma ovviamente le regole devono essere giuste, quindi dovremo parlare di giustizia. Ma la mia preoccupazione è proprio questa, non è un rispetto giuridico formale delle regole, ma è che in una situazione di illegalità diffusa il più forte prevale e il più debole soccombe. Per tutta una serie di dinamiche, io ne ho citato da qualcuno, ma il caso per esempio delle occupazioni abusive delle case a Napoli è emblematico, nel senso che chi occupa illegittimamente una casa, pur potendo fittarla da qualche altra parte, in realtà la sottrae ad un vero bisognoso che la casa in queste condizioni non l'avrà mai. E questo è semplicemente immorale ed è in larga parte favorito anche dal sistema dei partiti, perché c'è una connessione stretta tra i partiti che riflettono interessi di parte e coltimano clientele e le clientele che cercano i favori al partito. C'è una stretta connessione. Dalla crisi della democrazia, ripartendo dalla Costituzione italiana? E' un programma preciso, ampiamente condiviso, se non a volte plenariamente condiviso, per far cadere tutti i rami secchi che non tanto la Costituzione, quanto la dialettica, il sistema politico e la regola costituzionale, ha rivelato in questi ultimi decenni, a cominciare dal bicameralismo che va eliminato con uno dei rami secchi delle due camere, con una profonda trasformazione della giustizia allineandola ai modelli presenti in tutto il mondo civile, con una revisione del rapporto tra lo Stato e i governi locali, in modo da salvaguardare non una astratta unità del Paese, ma un habitat comune a tutti i cittadini italiani nel rispetto rigoroso del loro principio d'uguaglianza. Ecco, grazie mille, grazie.